Paolo Caputo, un bellissimo Civitavecchia, vince 5-2 col Falasche Lavigno. Anche nelle piccole difficoltà nel secondo tempo avete dimostrato di saper reagire. Quanto soddisfatto di questo risultato? Soddisfatto tanto. Vinciamo 3-0, poi gli è stata data la possibilità alla squadra avversaria di riaprirla con un gol fatto alla Maradona. Ma più alla Maradona a livello di palla a nuoto, perché è stata una girata da centro boa. In quel momento forse abbiamo perso un pochettino la calma, ma era talmente evidente l'errore arbitrale che i miei ragazzi sono nervositi e da lì per altri 10-15 minuti non abbiamo più fatto quello che dovevamo fare. Abbiamo dato la possibilità poi dopo anche di prendere il secondo gol, andare presso a loro con questo modo di giocare un po' rissoso. Però poi dopo alla fine il gioco è uscito fuori, siamo ritranquillizzati e è andato tutto bene. Un commento anche su questo Ruggero, oggi addirittura 4 gol, è stato determinante, ma quanto è importante per voi al di là dei gol? Gigi è un giocatore importante per questa società, per i tifosi, è un giocatore importante per tutti. Forse spendo qualche parola in più per lui, non me ne voglio agli altri ragazzi, ma Gigi qua, detto in Cilacchiese, ma che ci sta a fare? No, però ce l'abbiamo noi, ce lo teniamo stretto, lo proteggiamo, lo coccoliamo perché è un ragazzo particolare, è un ragazzo speciale, è un ragazzo tutto cuore, che fa queste cose. Penso che valga almeno la pena di due biglietti per lo giocare. Mister, un commento anche sul fatto che voi giocate di pomeriggio le gare casalinghe, è contento di questa decisione oppure cambia poco? Io sono il tecnico, queste sono decisioni societarie, quindi giustamente un tecnico si deve attenere a quello che decide la società. Va benissimo, è vero che oggi sono due partite che effettuiamo il pomeriggio, sono due partite che abbiamo vinto, quindi la società ha ragione e io salvo la società.